tv ciao stai zitto salve sono gabriere per il mio novastico e adesso andremo a giocare ho fatto già due video adesso si va a giocare posso premere? non ce la faccio più resta così pausa posso metterla? mi fanno male solo una partita con la carriera e ho fatto non ce la faccio più no mantieni stai zitto rimane così ciao apri non ci troppo metti pausa adesso andremo a giocare contro il cotone a presto stai zitto stai zitto ma sta andando a segnare ciao io passo stai zitto basta video basta video? stai zitto 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 il 2 a 0 con piccolone il primo tempo 2 a 0 sei messo pausa per casa no l'altra volta ci stava mio fratello che ha rovinato tutti e 2 i video spero che questa volta vi piacerà perché se non vi piacerà potrà essere perché non vi piace oppure perché perché il mio fratello l'ha rovinato per il giuventino il fiorentino qualche giorno per la juventus il fiorentino qualche altro il fiorentino il fiorentino il fiorentino tutte le squadre che chiedono io qualche giorno farò un calcio di inizio e farò tre partite con tre squadre prima Barcellona prima Barcellona secondo Real Madrid e poi qualche altra squadra questo è il mio primo pick sul mio tablet adesso posso portare? no fare finita la partita poi ti dico io stacco se metti pausa tagli la pausa colibba lì vuole fare tutto da solo quando fai ma la gioia la gioia la recupera e la griglia amma si inizia cerca di fare vuole fare gol e ha segnato nel gol del 3 del 5-0 parla 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 cartellino giallo non ce la faccio più se di solito quando fanno i replay puoi mettere pausa hai capito? quando li tolgo devo prendere la pausa non ce la faccio più basta io non ce la faccio più io voglio giocare uffa stai zitto ti prego non lo mi dà dopo ti faccio giocare ti faccio fare tutto quello che vuoi questo che non me lo vedi questa sarà la prima volta che la farò sul tablet perché il mio fratello non lo sta tornando perché? forse avrò zero like che mi piacciono e almeno di più quelli che non mi piacciono se la puoi mettere pausa io ho cercato i coni ho segnato il primo gol adesso ti farà una sostituzione non sa attare non sa attare Sì, 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 sì. Secondo voi segnerà Lorenzo Tonelli un mozzo? Secondo voi segnerà Lorenzo Tonelli un mozzo, sì, 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 sì. Se lo mando domani ricordatevi che l'ho mandato in sette. Dopo che è finito il primo tanno per Belgio e una squadra un grosso. Grazie. 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 Io la faccio più. Guarda le sepe. Che sepe. Sepe. Che sepe. Uh! Ah, sepe. Sepe, sepe. Sepe ho fatto. Prende la partita. Prende la partita. Prende la partita. Mi sono discorsato. E ho fatto. Ah. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.